L'apertura del notiziario di oggi, 18 gennaio, non poteva non essere dedicata a Rigopiano. Sette anni dopo una ferita ancora aperta, quella della tragedia dell'hotel Rigopiano, con la valanga che travolse l'hotel portando alla morte 29 persone. Oggi è proprio il giorno del ricordo delle vittime. Tra poco inizierà la cerimonia di commemorazione tradizionale che si svolge ogni anno a Rigopiano con la fiaccolata alla quale prendono parte i parenti delle vittime. Noi però abbiamo in collegamento, in questo momento da Farindola, il nostro inviato Luca Pompei con Diego Martelli e con un ospite per questo collegamento in diretta, che è uno dei parenti delle vittime. Luca, la linea a te. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio Anna. Un dolore che si rinnova. Sono passati sette anni da quella immane tragedia, forse la più grande tragedia, che ha colpito la provincia di Pescara. I parenti delle vittime, dopo sette anni, aspettano ancora giustizia. In corso di svolgimento all'Aquila, in corte d'appello, il processo di secondo grado. Il 9 febbraio è prevista la sentenza. Ma intanto oggi è il giorno del ricordo, il ricordo dei 29 angeli di Rigopiano. Già da questa mattina diverse le dichiarazioni rilasciate alle agenzie di stampa da parte delle istituzioni, in particolare il Presidente del Senato della Russa e della Camera Fontana, hanno chiesto che venga fatta giustizia per le vittime di Rigopiano. Poi c'è stato anche l'intervento di Tajani, leader di Forza Italia e ministro degli esteri, che ha lasciato un ricordo ai soccorritori, i tanti soccorritori, che in quelle ore così drammatiche sono giunte non senza difficoltà sul luogo della tragedia. Anche l'intervento di Pagano, Nazario Pagano, deputato di Forza Italia abruzzese, che ha parlato di sicurezza, che bisogna lavorare e continuare a lavorare per la sicurezza dei nostri territori. E poi l'intervento del Presidente Marco Marsiglio, che ha parlato di ferita ancora aperta. Ebbene, la ferita ancora aperta la sente ancora forte sulla sua pelle Paola Ferretti, la mamma di Emanuele Bonifazzi, che proprio questa mattina ha rilasciato all'agenzia di stampa una dichiarazione molto forte. I veri condannati siamo noi, non è così Paola? Sì, al momento sì. Gli unici condannati, innocenti, siamo noi. Siamo stati condannati all'ergastolo del dolore senza aver commesso nulla. Ormai ci aspettiamo una vera giustizia. Ecco, intanto, come dicevi giustamente tu, tra poco meno di un'ora la fiaccolata ai piedi della Valle di Rigopiano per raggiungere l'hotel e poi alle 16.49, l'orario della tragedia, saranno lasciati volare in area 29 palloncini bianchi con un coro di atri che intonerà il canto degli alpini, Signore delle Cime. Intanto voi siete sempre presenti da sette anni qui ed è giusto così commemorare queste vittime. Beh, per noi è impossibile non essere presenti perché ci pensiamo tutto l'anno a maggior ragione nel giorno del massimo dolore perché oggi io perlomeno ho rivissuto momento per momento dal 10.25 della prima scossa di terremoto e arriverò stasera, riviverò il calvario di sette anni fa. Ricordiamo che le vittime dell'hotel già avevano da giorni lanciato degli appelli fortissimi affinché fosse in qualche modo sgomberato l'hotel l'ultima volta che hai parlato con Emanuele? Io ho parlato con Emanuele, mi ha chiamato con WhatsApp, erano le 16. Io ho provato a tranquillizzarlo, ho provato un pochino a sminuire la mia preoccupazione dicendogli come va e dall'altra parte ho sentito una voce veramente preoccupata, tanto. Mi ha detto mamma qui è un disastro. Quindi erano coscienti della situazione e nessuno che è intervenuto nei tempi giusti per sgomberare quell'hotel. Anna, io ti ridò la linea ricordandoti che tra le altre cose sarà presente alla commemorazione in rappresentanza dello Stato, al sottosegrestario Fausto Bergamotto oltre ad altre autorità. Ovviamente nel corso della Tg delle 19.30 vi forniremo il servizio completo sulla celebrazione che ci sarà tra poco a Rigopiano e qui il tempo tra l'altro sta anche cambiando. A te Anna.